Il filo che vi propongo di seguire oggi, vi anticipo già che cosa desidera unire, così forse è un po' più facile andare avanti nei prossimi minuti. Il filo che vi chiedo di seguire vuole descrivere quali sono le cose che stiamo scoprendo relativamente alle piante negli ultimi anni, come stiamo cercando di usare queste cose che stiamo scoprendo e quali sono i due punti critici che queste scoperte stanno un po' rivelando. Un punto critico riguarderà proprio l'uso che facciamo delle cose, l'altro riguarderà principalmente il linguaggio, cioè come le raccontiamo, come prendiamo delle informazioni legate alle scoperte scientifiche e ci troviamo di fronte ogni tanto a degli ostacoli che partono da umanissimi limiti nel riuscire a spiegare, a raccontare e a trovare un modo non soltanto per capire le piante, ma anche per riuscire a raccontare quello che abbiamo capito. Da un momento che non c'è stata una vera presentazione formale, ne approfitto per dire due cose su quella che è stata la storia della mia relazione con le piante, che è una storia che si sviluppa su due piani. Uno è quella dell'educazione affettiva sentimentale. Io ho trascorso, e l'ho raccontato in uno dei libri, in quello che si chiama Le piante sono brutte bestie, ho trascorso quasi tutti i miei pomeriggi estivi quando ero bambino con mio nonno in un orto, in un orto giardino e con lui ho imparato a relazionarmi con le piante in quanto altri esseri viventi. E già qui introduco un elemento, noi uomini riconosciamo le piante come esseri viventi solo quando iniziamo ad avere circa 5-6 anni di età. Prima sono oggetti inanimati. Per un bambino di 4-5 anni una pianta è come un sasso, non è un organismo vivente. E già questo è un elemento che vedrete tornerà fuori prossimamente. Dopo quel periodo di relazione, ripeto, molto affettiva, che a me piace riassumere con questa vignetta di Andrea Pazienza, perché, come dire, riassume bene l'elemento della scoperta e del senso di meraviglia che c'è nel momento in cui ci si relaziona con cose che non si conoscevano prima, legate al mondo che ci circonda. La mia storia ha preso un'altra via e anziché relazionarmi con le piante, diciamo così, in maniera diretta, ho iniziato a entrarci dentro. Mi sono laureato in chimica, ho preso un dottorato in microbiologia e ufficialmente per il Ministero italiano sono un botanico. Io mi occupo di tutte le sostanze chimiche che stanno dentro alle piante e il mio percorso di formazione è passato da guardare quello che mi sta intorno a guardare dentro a quello che mi sta intorno. Ed è stato un percorso che me ne sono reso conto scrivendo i libri e le cose che vi racconterò oggi, in un certo senso mi ha fatto scoprire come funziona l'interno delle piante, ma un po' mi ha fatto perdere di vista il contesto, quello che c'è intorno, perché a forza di entrare dentro un po' ho perso di vista qual era l'oggetto che stavo osservando, un po' come quando si guarda una cosa col microscopio e a forza di guardarla dentro si perdono i contorni generali del punto da cui si è partiti. Sì, 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 grazie. Ma tendenzialmente come una pianta non mi muovo, rimango fermo, per cui minimizzo il rischio da questo punto di vista. Quindi per me le piante sono sempre state un qualcosa di protagonista o di attivo nella mia vita, nella mia formazione. Ovviamente per molti di noi le piante sono principalmente un qualcosa che, come ho anticipato prima, raramente osserviamo con grossa attenzione. Un altro esempio che si può fare è che quando i bambini crescono e iniziano a riconoscere le piante come esseri viventi, iniziamo ad abituarli a catalogare le cose e nella catalogazione abituale i bambini riescono a riconoscere un cane, un gatto, un pesce, la mucca, quindi a distinguere gli animali tra loro, mentre le piante sono un'unica categoria. Cane, gatto, uccellino, piante. Come se all'interno della categoria piante non fosse possibile distinguere e separare le cose. Di solito si usano espressioni legate alla miopia o alla cicità, al fatto che non vediamo le piante. A me, anche perché la musica piace, piace di più utilizzare l'espressione secondo cui le piante sono un po' come la musica ad ascensori, quella musica che si ascolta nei luoghi pubblici e quando qualcuno vi chiede ma che musica hai ascoltato, dici non so che musica era, perché è quella musica che ci entra da un orecchio e ci esce da quell'altra e gli americani la chiamavano muzac perché si usavano degli apparecchi nei centri commerciali che usavano e prendevano questo nome. Il racconto che vi voglio fare però è iniziato in un momento preciso, ha avuto un suo momento eureka ed è stato il momento in cui mi sono trovato in un negozio di valigie a comprare un trolley nuovo perché ne avevo bisogno e la commessa ha iniziato a descrivermi le caratteristiche dell'ultimo modello che avevano a disposizione, l'ultimo arrivato e nella sua descrizione mi ha spiegato che quel modello aveva delle caratteristiche, delle performance di leggerezza, di resistenza agli urti, alle torsioni dovute a una particolare struttura che aveva nel suo interno e usava le stesse descrizioni, lo stesso racconto che faccio io quando spiego ai miei studenti come è fatta la parete cellulare di una cellula vegetale. Nelle piante le cellule hanno un rivestimento esterno che negli animali non è presente ed è un rivestimento esterno fatto da fibre di cellulosa immerse in una matrice, ricorda concettualmente il cemento armato come struttura e conferisce alla parete cellulare delle piante una grande elasticità, una grande resistenza agli urti e una grandissima leggerezza, quindi un ottimo rapporto tra performance, peso e materiali utilizzati. Con questa, uscito dal negozio, questo racconto mi ha messo in moto un interesse, una curiosità, ovvero pensare se ci poteva essere modo di copiare qualche idea della natura e che magari chi aveva sviluppato quella valigia aveva avuto una qualche reminescenza delle sue lezioni di biologia e aveva pensato di imitare la parete cellulare per costruire il guscio di quel trolley. Questo non lo so, nel senso che non so se effettivamente quella, chiamiamolo inventore, si è rispirata una parete cellulare, quello che so è che da lì ho scoperto che effettivamente esiste questa disciplina, esistono diverse figure professionali che prendono ispirazione dalla natura e nel nostro caso prendono ispirazione dalle piante queste, per sviluppare nuovi materiali, per trovare nuove idee, per cercare di inventare qualcosa che renda magari più sostenibile la nostra presenza sul pianeta. È una cosa che negli ultimi 5-10 anni sta vivendo un'impennata molto forte, in ambito scientifico le pubblicazioni relative a questo argomento stanno, ok funziona, molto più rapidamente delle altre, ma non è un'idea diciamo che è nata da pochi anni, vedremo più avanti, ci sono esempi di, possiamo chiamarla biobimetica che risalgono all'ottocento, quando le tecnologie erano quelle dell'ottocento, ci sono esempi nel mondo del design che diciamo hanno anticipato quantomeno come da un punto di vista culturale questo tipo di visione. Achille Castiglioni, che era uno dei padri del design italiano, diceva ai suoi studenti, ai suoi allievi, andate in giro per prati e per boschi perché tutte le idee buone sono già tutte là, dovete soltanto andare a guardare i prati e i boschi con gli occhi giusti per trovare delle idee. E Bruno Monari in Good Design utilizza la struttura di un arancio descrivendola come se fosse un sistema innovativo di packaging, suggerendo di copiare il modo in cui nella natura questo frutto ha creato una struttura capace di resistere agli urti, capace di trasportare e veicolare nel tempo il contenuto per progettare materiali di packaging. Quello che ho scoperto è che diciamo la biomimetica è o può essere una nuova visione della... ho un momento di lapsus totale... del mito greco che in questo momento mi si è cancellato dalla mente. Allora, il mito greco qual è? Uno dei giganti, che è il nome che non mi viene in mente, adesso qualcuno in sala magari più svelto di me, gli apparirà nella mente, è stato accecato dagli dèi perché non ha seguito le loro indicazioni e gli viene detto di camminare verso Oriente, il gigante Orione, in questo momento l'Alzheimer ha recuperato il leg. Orione è stato accecato e gli è stato detto cammina verso Oriente perché se cammini verso il sorgere del sole vedrai, riprenderai a vedere. Per cui il gigante che non vede si carica sulle spalle un bambinetto che si chiama Cedalione e segue le sue indicazioni. Il bambinetto stando sulle spalle del gigante vede l'alba molto prima per cui in un certo senso anticipa il futuro, vede il giorno che verrà prima che questo possa avvenire e guida il gigante verso la risoluzione del suo problema. Questo mito, questo è un quadro di un pittore francese che si chiamava Nicolas Poussin della fine del Settecento, questo mito è come dire un po' un mito fondativo che è stato preso e ripreso in vari ambiti culturali, l'hanno usato dei teologi, l'hanno usato dei fisici, l'hanno usato scienziati moderni ed è il mito che viene riassunto con l'espressione salire sulle spalle dei giganti o siamo onani sulle spalle dei giganti e indicare che tutto quello che possiamo fare per il nostro futuro è comunque figlio di tutte le informazioni, di tutta la cultura, di tutto ciò che è stato sviluppato da chi è venuto prima di noi. Per la biobimetica, o se vogliamo usare l'espressione che alcuni considerano più corretta, per il design bioispirato, il gigante su cui stiamo salendo è quello dell'evoluzione. La selezione naturale e l'evoluzione hanno premiato alcune forme, alcune strutture, alcune caratteristiche negli organismi viventi, queste forme, queste strutture, queste caratteristiche, queste strategie risolvono dei problemi, perché non utilizzarle come punto di partenza per risolvere i nostri problemi e quindi riuscire a avere dei prototipi, diciamo così, da cui partire per ottenere cose nuove. Qualche esempio, e l'arancio di Bruno Monari ci torna utile in questo caso, questo è un pomelo, il pomelo è il più grande degli agrumi, è un agrume non selezionato dall'uomo, è una delle tre specie di agrumi che sono effettivamente presenti in natura, che non sono state modificate dalla domesticazione avvenuta tramite l'agricoltura, e è un frutto molto grande, adesso si inizia a vedere anche nei nostri supermercati ogni tanto, è un frutto molto grande, perché è grande quasi come una zucca, può arrivare a pesare in natura 4-5 kg e cresce su un albero molto molto alto, molto più alto di un arancio normale, quindi il frutto in natura può cadere da un'altezza di 7-8 metri. E il frutto cadendo a terra non si rompe, non si rompe perché, chiamiamola per intenderci, la buccia del frutto non solo è particolarmente grossa, ma è fatta di un materiale spugnoso che ammortizza l'urto impedendo il frutto di rompersi. E non solo ammortizza l'urto, ma chi è andato a vedere come è fatto, ha notato che, come spesso avviene in natura, ed è una cosa che stupisce noi perché appunto non fa parte spesso del nostro modo di pensare, l'effetto di ammortizzazione viene ottenuto con il minimo del materiale possibile. Quindi si ottiene il massimo del risultato col minimo dello sforzo, quindi con il minimo della spesa, del costo, se vogliamo anche dell'impatto in termini di produzione. In questo caso alcuni ingegneri hanno mappato come si dispongono le fibre nel materiale spugnoso, hanno generato un algoritmo e hanno suggerito di utilizzarlo, lo stanno utilizzando, per fare dei prototipi di materiali urtoassorbenti, ad esempio da utilizzare nell'industria automobilistica. In alcuni casi la conoscenza di come funziona l'evoluzione, come funziona la selezione naturale, permette di arrivare più rapidamente a trovare delle buone idee, dei buoni suggerimenti, ovvero si può sfruttare quella che in natura i biologi chiamano evoluzione convergente, ovvero due organismi che sono completamente diversi e separati tra di loro, che vivono in condizioni diverse tra di loro, ma si trovano a dover resistere allo stesso tipo di stress, ad affrontare lo stesso tipo di problema, se in questi organismi il problema è stato risolto nello stesso modo, vuol dire aumenta la probabilità che quella soluzione effettivamente possa essere particolarmente efficace. Questa qui è una rosa di gerico, la classica pianta che si regala a chi non ha un pollice particolarmente verde o non ha particolarmente memoria per dare acqua alle piante, è una pianta che ha la caratteristica di potersi completamente essiccare, disidratare completamente se non ci dimentichiamo di darle da bere, e nel momento in cui noi le ridiamo acqua, le sue attività vitali riprendono e funzionano nuovamente, che è una cosa che non fanno tutte le piante. Se io mi dimentico di dare da bere al basilico, il basilico si secca, muore e io se gli ridò acqua lui non riprende a vivere. Questa invece non è una pianta, questa specie di sacchetto per respirapolveri è un tardigrade, è un invertebrato, è un organismo molto molto piccolo ed estremamente resistente, è in grado di probabilmente di viaggiare nello spazio e di resistere alle radiazioni, al vuoto e all'assenza di acqua, e sulla terra è in grado anche lui di disidratarsi completamente e di riprendere le attività vitali nel momento in cui torna di nuovo ad avere umidità a disposizione. In tutti e due questi organismi sono attivi diversi sistemi che garantiscono questo risultato, ma in tutti e due è presente un accumulo molto grande di uno zucchero particolare che si chiama trealosio, che forma una struttura vetrosa man mano che sparisce l'acqua, che ingloba tutte le parti vitali della pianta e del tardigrade e in un certo senso le preserva mentre l'acqua non è disponibile. Quando l'acqua torna a essere disponibile anche sotto forma di umidità, in quanto zucchero si scioglie e i sistemi biologici riprendono a funzionare, non al 100%, una certa parte non funziona e va ricostruita, però quel minimo che permette ad esempio alla pianta di ritornare a funzionare. Un'azienda farmaceutica inglese ha messo a punto un sistema basato sul trealosio e che usa concettualmente lo stesso principio per conservare alcuni vaccini e dei sieri, ad esempio dei sieri antiveleno, antivipera per intenderci, fuori dalla catena del freddo per circa 18-20 mesi, in maniera tale da poterli distribuire e permettere che rimangano attivi anche in tutte quelle zone in cui non è possibile avere una catena del freddo e quindi non ci sono i frigoriferi e la distribuzione deve avvenire di fatto a temperatura ambiente. Questo esempio invece riguarda come questa disciplina abbia un bell'aspetto che è quello di riuscire a creare un ponte tra quella che si chiama ricerca di base e la ricerca applicata. La ricerca di base è quella che generalmente sui giornali finisce con il classico commento a che cosa serve studiare questa roba qua, cioè cosa ci serve studiare come funziona, che ne so, la membrana di una cellula. La ricerca applicata è quella che invece produce cose che ci servono, per cui apparentemente diciamo che è quella che effettivamente è l'unica fondamentale, è l'unica che ci serve. In questo caso è raffigurata una particolare membrana sulla quale sono inserite delle proteine. Queste proteine sono presenti sulle cellule di molte piante, ad esempio delle mangrovie che devono filtrare l'acqua salata, sono presenti anche sulle cellule degli animali, si è scoperto poi, e sono le proteine per le quali è stato dato il premio Nobel del 2003, se non ricordo male, per la chimica, perché il premio Nobel per la chimica viene dato, diciamo, un po' ai biologi, un po' ai chimici, uno di quelli del premio Nobel che viene spesso distribuito tra le discipline. Questa proteina ha una caratteristica, è fatta in maniera tale che al suo interno passano in file indiane esclusivamente molecole di acqua, per cui tutto ciò che non è acqua viene filtrato da parte di questa proteina. Nelle mangrovie serve a far entrare l'acqua all'interno delle cellule e tenere fuori il sale. Le mangrovie vivono in acqua salmastra e quindi hanno il problema dell'eccesso di salinità all'interno dell'acqua. Quando Samantha Cristoforetti, ormai tre anni fa, se non ricordo male, è scesa dalla stazione spaziale internazionale, al suo posto è salito un astronauta danese che ha portato dei filtri basati su questo principio, proprio contenenti queste proteine inserite su una membrana, e ha utilizzato questi filtri per rendere nuovamente potabili tutte le acque reflue della stazione orbitale, dove ovviamente come piccolo mondo o si portano i pacchi dell'acqua, e non so se è lunga, fa le consegne di acqua fino all'orbita terrestre, oppure si trova un modo di riciclare tutta l'acqua che è presente, sia l'acqua delle deiezioni degli astronauti, che l'acqua che viene condensata dalla respirazione, che l'acqua che si usa per fare gli esperimenti. Quindi in questo caso non solo abbiamo un'idea, ma come nel precedente abbiamo proprio un prodotto, cioè questi filtri sono disponibili, esistono delle aziende che li producono e che li realizzano. In questo caso invece abbiamo un prodotto italiano, c'è un'azienda, una start-up vicino a Cesena, che produce tasselli per saldare le fratture, quindi una produzione biomedica molto specialistica, sono prodotti in un materiale che è un'idrossiapatite, che è un materiale di produzione semiceramica, che però imita molto la composizione delle nostre ossa, e questa start-up ha come base di partenza una scoperta, cioè che è quella che nel fusto del bambù, la disposizione delle fibre permette di avere anche in questo caso il massimo dell'elasticità, della flessibilità, col minimo del materiale necessario, quindi è una scoperta di partenza legata alla ricerca, che si è sommata a una scoperta che loro hanno fatto iniziando a provare questi materiali, ovvero quando loro producono un tassello in idrossiapatite che imita o mima o riproduce la struttura del fusto, di alcune parti del fusto del bambù, hanno notato che non solo questo permette di avere performance migliori con il minimo dei materiali e quindi con un costo più basso, ma che questo viene colonizzato, tra virgolette, dai vasi sanguigni dell'osso molto più rapidamente degli altri. Questa è una scoperta casuale, non era voluta, ma è un ulteriore vantaggio che è nato. Perché? Allora, vi ho elencato alcune di scoperte di questo tipo, ce ne sono ovviamente molte altre, alcune le ho raccontate in uno dei libri, altre si trovano frequentemente anche sulle riviste che si occupano di scienza e di tecnologia. Una delle motivazioni di questa impennata è ovviamente tecnologica. Abbiamo a disposizione delle tecnologie che non solo ci permettono di scoprire come è fatta una proteina, ma ci permettono di riprodurla, ci permettono di inserirla su una membrana, quindi possiamo guardare e possiamo riprodurre. Possiamo fare quello che, ancora una volta, fanno spesso i designer. Prendere un'idea, copiarla, trasformarla e produrre qualcosa di nuovo, facendo crescere un pochino l'altezza del gigante, in questo caso, e l'insieme delle cose che sappiamo. Ma c'è un altro motivo che non viene spesso raccontato, che ha facilitato tutta questa operazione. Google Scholar è il motore di ricerca di Google dedicato ai ricercatori scientifici, è quello su cui io e i miei colleghi di tutte le discipline possiamo andare e scrivere l'argomento che ci interessa, proprio come tutti noi possiamo fare su Google normale, indicando, ad esempio, l'argomento che stiamo studiando. Fino a qualche anno fa, questa ricerca veniva fatta andando a guardare le riviste singole che si occupavano degli argomenti tipici di ogni persona. Ad esempio, io mi occupo di sostanze organiche prodotte dalle piante, andavo a guardare le riviste che si occupano di questo argomento e questo mi faceva guardare solo il mio argomento. Io scoprivo solo articoli di persone che guardavano le piante con il mio punto di vista. Quando è nato Google Scholar, le cose invece hanno fatto un salto di categoria. Se un ingegnere che si occupa di, ad esempio, materiali super idrofobici, quelli su cui non si deposita acqua e rimangono sempre perfettamente asciutti o sempre perfettamente puliti, scrive superficie superidrofobiche su Google Scholar, non gli compaiono più soltanto le sue pubblicazioni, quelle del suo settore, del suo piccolo mondo, della sua bolla, se vogliamo usare questo termine, che è un po' attuale quando parliamo di internet, ma anche quelli di persone di ambiti culturali diversi, perché ha iniziato a scoprire che c'erano dei biologi che studiavano le superfici superidrofobiche delle piante, che era una cosa che lui non sapeva. E quindi ha iniziato a mescolare le sue conoscenze di ingegnere con le conoscenze dei biologi e scoprire che i suoi problemi di ricerca potevano essere risolti pescando idee in altri campi. Google Scholar ha un motto, ha una frase guida e, come dire, è costruito, un po' è casuale, ma la frase guida di Google Scholar è sali sulle spalle dei giganti. Perché? Perché utilizzando questo sistema è come se noi fossimo sulle spalle di Orione e avessimo un'enorme quantità di informazioni da consultare, non solo quella che noi abbiamo scoperto con la nostra formazione o che riguarda la nostra professione. Quindi la biomimetica è una disciplina che mescola cose diverse, che obbliga l'ingegnere a lavorare col biologo, il chimico a lavorare con l'architetto, chi si occupa di sistemi complessi viene messo a lavorare con una persona che fa apparentemente solo matematica di base. Spesso è presentata in termini recenti la biomimetica come l'ennesima soluzione ai nostri problemi. Come vedremo tra un attimo abbiamo un po' la fissazione per le soluzioni definitive, che sono cose che in natura non ci sono e che in natura non esiste. E anche istintivamente sappiamo che se noi copiamo dalla natura la narrativa che si è costruita dietro a questo ci dice che stiamo facendo una cosa positiva, una cosa vantaggiosa. In realtà la biomimetica è né più né meno che uno strumento come tanti altri e come al solito gli strumenti non sono virtuosi o negativi in quanto tali ma dipende dal modo in cui vengono utilizzati. Questa immagine è un po' dotata, è l'esempio di biomimetica dell'Ottocento a cui vi ho accennato in precedenza e sono le immagini del brevetto che è stato concesso verso la metà fine dell'Ottocento a un giardiniere francese a cui si rompevano per effetto del freddo principalmente tutti i vasi e lui ha usato come ispirazione pare osservando la pala di un fico d'India quindi la struttura di una parte del fusto del fico d'India che si stava degradando osservando che le nervature al suo interno lo rendevano molto elastico e molto robusto e molto flessibile prima di rompersi e l'ha utilizzata per ottenere quello che è considerato un po' da tutti il brevetto di partenza per lo sviluppo del cemento armato ora, io vi sto dicendo che il cemento armato in teoria è un'invenzione biomimetica che ha una base ispirata alla natura usiamo la parola cementificazione per indicare proprio l'epitome dell'insostenibilità cioè della non sostenibilità ambientale quindi non è assolutamente detto che un'idea presa dalla natura automaticamente sia vantaggiosa l'altro aspetto che questo tipo di approccio ci dovrebbe far presente o ricordare ed è un elemento che non dovremmo dimenticare mai è che noi uomini tendiamo ad avere una passione per la soluzione definitiva quando abbiamo un problema cerchiamo di risolverlo come dire in maniera draconiana in maniera definitiva e spesso ci raccontiamo che le soluzioni che troviamo siano definitive l'antibiotico è la soluzione definitiva ai problemi delle malattie poi se non lo usiamo appropriatamente l'antibiotico non è più necessariamente la soluzione al problema delle malattie questo sistema di coltivazione o questo sistema per produrre nuove piante risolverà definitivamente il problema della fama nel mondo poi scopriamo che effettivamente non è così perché in realtà in natura non esistono soluzioni definitive qualunque problema un organismo vivente si trovi a dover affrontare viene risolto da una cooperativa di soluzioni che concorrono con pesi diversi ma spesso con pesi piccoli a risolvere il problema grande quindi qualunque problema che noi abbiamo dovremmo tenere presente che viene risolto da una somma di piccole azioni più che da una singola azione azione grande questo modo di osservare la natura che vi ho anticipato prima ha anche un altro punto critico che non ho tenuto presente quando ho scritto Erba Volant il libro che parla di biomimetica di cui però mi sono reso conto rileggendolo a posteriori o ragionandoci in seguito questa è un piccolo spezione di Fight Club in Fight Club c'è una scena durante la quale il protagonista cammina per strada al telefono e il suo appartamento diventa una sorta di catalogo Ikea in cui ogni cosa ha un prezzo ogni cosa è un oggetto comprato ogni cosa come dire ha un senso nella sua casa perché lui ha speso dei soldi per comprarli in quella scena si parla molto di diciamo di visione materialistica del mondo contemporaneo io ogni tanto ho paura che il modo con cui guardiamo la natura e lo stesso modo che vi ho descritto arrivando fin qui facendovi degli esempi di cose che possono essere positivi abbia come piccolo rovescio della medaglia che noi stiamo dando un premio nella natura solo a ciò che ci rendiamo conto che può generare guadagno cioè che può essere base per una start up base per un prodotto da vendere base per qualcosa che in un qualche modo ci è utile e che quindi nella natura conti come dotato di valore solo ciò che ha valore per noi non ciò che diciamo così e ciò che non ha un valore diretto per noi apparentemente è una cosa insignificante è una cosa che non serve è una cosa che non ha quasi senso di esistere in natura questo è il tipico modo di osservare le cose e anche osservare le piante proprio come se fossero oggetti proprio come vuol dire fa un bambino di meno di 4 o di 5 anni come oggetti inanimati in brutte bestie ovvero le piante sono brutte bestie prova a spiegare come questo modo di osservare le piante sia diventato anche un modo di ingannarci su una pratica diciamo molto comune e spesso è considerata verde considerata sostenibile che è il giardinaggio in quel libro io come dire ammetto un mio bias un mio come dire pregiudizio nei confronti di alcuni modi di agire e il pregiudizio è quello verso i giardini in cui le piante sono oggetti sono status symbol sono estensioni dei soprammobili di casa e non un qualcosa che ci promette di relazionarci effettivamente con il mondo di fuori sono biglietti da visita che io uso per dire al vicino che ho i soldi per permettermi un certo giardino e l'ho chiamato il giardino di Ciapek perché oltre a dare la definizione della parola robot oltre ad essere come dire uno scrittore Ciapek curava negli anni 60-70 una rubrica di giardinaggio su una rivista cecoslovacca e ha scritto un libro che si chiama l'anno del giardiniere in cui racconta di questo giardiniere che è ossessionato da comprare piante nuove comprare fertilizzanti l'ultimo modello di zappa all'epoca la tecnologia cecoslovacca quello permetteva per cui non è che poteva comprare l'app per controllare se la pianta aveva seto oppure no che è una visione di una relazione con la natura che è molto materialistica cioè la pianta in quel caso diventa proprio un oggetto al mio servizio e non un qualcosa che mi pone in relazione col mondo invece le piante sono in relazione col mondo cioè le piante sono molto più biologicamente legate vincolate ancorate al mondo in cui vivono di quanto non siamo noi e qui iniziamo a vedere come le piante siano degli organismi diciamo così un po' alieni rispetto agli uomini rispetto agli animali come questa alienità questo altro da noi sia uno degli elementi che ci mette in difficoltà quando vogliamo capire come funzionano e relazionarci con loro questo è un altro film è un filmaccio nel senso che questo è proprio bruttino come film però mi tornava utile perché c'era questa bella scena che era una classica descrizione presa da Tex Willer fino a questo film di pochi anni fa che è quello della condanna per sepoltura gli indiani prendevano catturavano il malcapitato di turno lo mettevano sepolto con la testa di fuori nel terreno e lui era in balia delle formiche che arrivavano del calore della sete dei corvi che iniziavano a beccarlo eccetera eccetera ecco questa è la vita delle piante cioè la pianta nel momento in cui cresce in un certo luogo è costretta a scendere a patti a trovare strategie per sopravvivere di fronte a tutto quello che arriva la pianta non si può spostare la pianta deve rimanere lì e adeguarsi al territorio in cui cresce l'animale ovviamente può migrare noi ce ne possiamo andare ci possiamo spostare dal posto in cui siamo nati se le condizioni non sono favorevoli se in questa stanza fa troppo freddo ci spostiamo in una dove fa più caldo la pianta deve rimanere qua a meno che non trovi qualcuno che la sposti e questo significa che le piante hanno dovuto sviluppare una enorme sensibilità e capacità di risposta a tutto ciò che le circonda hanno dovuto trovare un modo di adeguare la loro vita e di relazionarsi con l'ambiente intorno che fosse calibrato su una sintonia finissima molto più fine di quella degli animali in questo caso ho usato delle fotografie di un osservatore meteorologico della fine dell'ottocento inizio novecento inglese perché gli inglesi e anche altri stati europei utilizzavano le piante per avere delle indicazioni su come sarebbe andato il clima negli anni successivi quindi guardavano quando fiorivano ad esempio le piante o quando germogliavano le prime piante dopo l'inverno per fare delle stime e riuscire a dire agli agricoltori guardate quest'anno dovrete seminare l'avena più o meno intorno al 15 di aprile l'avena non si semina il 15 di aprile è giusto per fare giusto per dare un'idea e fare un esempio uno di questi signori aveva una passione artistica per la fotografia e ha iniziato a fare questo progetto ha iniziato a fotografare il giorno di capodanno di tutti gli anni ed è andato avanti per più di 50 anni a fare questa operazione a che punto erano un gruppo di bucaneve e un gruppo di narcisi che crescevano nel suo giardino come si vede ogni anno la pianta è in un punto diverso alcuni anni ha fatto più caldo e quindi la pianta è cresciuta prima in altri anni ha fatto più freddo e cresciuta di meno in altri ancora ha fatto talmente freddo che non è non è neanche fatto capolino dal suolo e dal terreno queste non sono solo osservazioni come dire artistiche in questo caso ma come racconto le piante sono brutte bestie appartengono a una disciplina che si chiama fenologia che studia la relazione e il comportamento delle piante rispetto all'ambiente circostante e ci sta fornendo adesso non nell'ottocento delle indicazioni molto chiare legate a come le piante stanno rispondendo al cambiamento climatico e quindi che cosa ci dovremmo aspettare in teoria purtroppo aggiungo negli anni prossimi per quello che abbiamo combinato finora e per quello che stiamo continuando a fare il fatto di essere sensibili non è una condizione sufficiente per fare quello che fanno le piante per rispondere alle esigenze delle piante le piante hanno bisogno di essere plastiche dove per plastiche ovviamente intendo un qualcosa che è in grado di adeguarsi e di rispondere alle sollecitazioni che arrivano dall'esterno l'esempio di prima dei bucaneve indica una plasticità condizioni diverse risposta diversa che si può osservare attualmente anche utilizzando tecnologie molto più elaborate di una fotografia questa è una tomografia a positroni è una PET quella che si fa anche negli ospedali sugli esseri umani è un tipo di indagine di imaging quindi che utilizza le immagini per produrre delle informazioni che descrive il comportamento fisiologico di alcune sostanze all'interno degli organismi viventi in questo caso abbiamo sotto una piantina di pioppo in cui riconosciamo una foglia grande una foglia più piccola e il germoglio all'inizio nella parte sinistra e sopra è la stessa piantina di pioppo su cui è stato messo un bruco il bruco ha morso la foglia perché il bruco è stato messo sulla fogliorina più piccola e la fogliorina più piccola è scomparsa dall'immagine perché? perché questa immagine indica in rosso la presenza di zuccheri quando la pianta riceve il morso da quella foglia toglie tutti gli zuccheri per togliere nutrimento al bruco e per proteggere tutti gli zuccheri che lei ha prodotto e che le servono li prende e li porta nelle radici infatti la radice è molto più rossa nell'immagine sopra che nell'immagine di sotto questa è una risposta di tipo plastico ho una sollecitazione in un punto preciso del mio organismo rispondo rendendo la vita difficile al mio aggressore e mettendo da parte come dire il mio tesoro in una zona che è riparata e che è protetta una delle differenze che abbiamo con le piante è quella che ho citato prima le piante non si muovono ma ce n'è un'altra che per me forse è ancora più importante perché ovviamente porta alle mie competenze di chimico delle piante chiamiamolo così le piante non hanno un apparato escrettore le piante non vanno in bagno biologicamente le piante non producono rifiuti qualunque rifiuto del metabolismo delle piante è preso dal loro organismo e riciclato per produrre altre cose quindi gli viene dato un nuovo uso un nuovo utilizzo e in un certo senso questo è un altro da noi molto importante perché lo so che è quasi ora di pranzo ma per noi è normale produrre dei rifiuti per noi è come dire mentalmente fisiologico e appunto proprio naturale perché la natura ci fa produrre dei rifiuti ci fa produrre le feci ci fa produrre le urine per cui noi produciamo dei rifiuti nelle piante questo non avviene e tutto viene ripreso riciclato e riutilizzato in particolar modo ogni pianta produce fino a 30.000 circa sostanze chimiche diverse sono quelli che vengono chiamati metaboliti secondari e sono tutte sostanze chimiche che alla pianta servono per fare tutte e molte di più quelle attività che abbiamo descritto finora per relazionarsi con l'ambiente per rispondere alle aggressioni per resistere al freddo per trovare una risposta se c'è siccità o se ci sono altri tipi di difficoltà per attirare animali per respingerli per fare tutte quelle pratiche di seduzione e repulsione con cui le piante resistono e fanno cose pur rimanendo bloccate e ancorate al suolo e ancorate dal terreno noi ci abbiamo messo un sacco di tempo a capire effettivamente come questo sistema complesso fatto di decine di migliaia di sostanze chimiche funzionasse effettivamente e lo abbiamo fatto perché per lungo tempo abbiamo continuato a utilizzare il sistema a cui ho accenato prima quando c'era il motore di ricerca di Google secondo il quale ognuno si occupa soltanto del suo orticello e cura il suo giardino di botanico il suo giardino di chimico il suo giardino di matematico eccetera eccetera abbiamo sempre osservato le piante con il principio della favola della leggenda che era assunta in questa illustrazione di Okuzai dell'illustratore giapponese di cui hanno fatto una mostra a Milano qualche anno fa no qualche anno fa l'anno scorso e quando io mi sono trovato davanti questa immagine e la storia che c'è dietro ho avuto la stessa idea che ho ritrovato in un libro che mi è piaciuto molto e che ho scritto e che ho letto magari l'avessi scritto che ho letto recentemente che è Cromorama di Riccardo Falcinelli lui lo usa per descrivere la nostra relazione con i colori ma la stessa cosa vale per la nostra relazione con le piante e con la loro complessità nella leggenda cosa si racconta si racconta che arriva un elefante in un paese in cui ci sono dieci saggi ciechi sette qui ce ne sono dieci nell'immagine ma nella leggenda dice sette saggi ciechi e i ciechi cercano di capire come è fatto l'elefante per cui ognuno arriva e dice ok a tentoni cerco di capire come è fatto l'elefante e uno dice è fatto come una corda perché gli sta tenendo la coda no no è fatto come una pianta perché gli sta tenendo una parte di una zampa oppure dice no 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 è piatto perché ha preso in mano un pezzo dell'orecchia e ognuno si convince che l'elefante sia fatto in funzione di quello che sta toccando perché sta osservando solo una piccola parte di un sistema che invece è molto più complesso rispetto a quello che i suoi sensi gli permettono gli permettono di fare attualmente le nostre tecnologie ci permettono di superare almeno in parte questo limite questo vincolo perché abbiamo iniziato a osservare gli organismi viventi e anche le piante con un approccio che quella parola di solito non si può dire quando si parla di ambito scientifico la parola olistica quindi che le osserva invece tutte insieme esiste un insieme di discipline che si chiamano scienze omiche che non guardano più un certo numero di sostanze o un certo numero di caratteristiche ma cercano di guardarle tutte insieme e tutte unite tra di loro queste discipline si chiamano genomica epigenomica trascrittomica proteomica metabolomica e fenomica e non fanno altro che osservare contemporaneamente o tutti i geni o tutti i modi in cui questi geni vengono attivati o vengono messi in moto all'interno delle cellule o tutte le proteine o tutti i metaboliti o tutte le caratteristiche visibili di una pianta usiamo il visibile che è quello che è più facile esistono sistemi di selezione delle piante agricole molto utilizzati nei paesi diciamo più che hanno investito di più in questo settore che fanno la selezione delle piante da utilizzare in campo agricolo quindi da con performance diciamo migliori esclusivamente facendo degli scanner tridimensionali delle piantine e andando a correlare la forma della pianta con la composizione chimica con la struttura con la presenza e l'attivazione di determinati geni e indirizzando la selezione agricola utilizzando questo tipo di criteri questa operazione questa osservazione della pianta nella sua interezza ci ha fatto scoprire che quelle che noi chiamiamo piante sono delle descrizioni limitative limitanti qui c'è scritto questa non è una pianta nel senso che quella che noi chiamiamo pianta stiamo scoprendo che non è una semplice pianta così come noi in quanto esseri umani non siamo fatti soltanto di cellule umane ma anche le piante hanno una relazione molto estesa molto abbondante anche molto dispendiosa con microorganismi del suolo e che quindi oltre a salire sulle spalle del nostro gigante possiamo anche andare a guardare cosa c'è sotto alle suole se vogliamo capire le piante e come funzionano ogni pianta alcune più di altre però ogni pianta investe in zuccheri acidi organici sostanze chimiche quasi la metà dell'energia che acquisisce con la fotosintesi e queste sostanze non le tiene dentro di sé ma le butta nel terreno quindi apparentemente prende la sua ricchezza di energia acquisita con la fotosintesi e la butta per strada la butta per la finestra la butta fuori queste sostanze stiamo scoprendo che non sono buttate via sono chiamiamolo un investimento sono l'avvio di una relazione l'avvio di un rapporto perché si stima che nella zona chiamata risosfera che è la zona di terreno che sta intorno alle radici si è ospitato un numero di microrganismi che secondo alcune stime è più o meno pari al numero di stelle che si ritiene sia presente nel cielo nel firmamento quantomeno nell'universo conosciuto quindi un numero enorme di microrganismi che spesso noi non conosciamo di cui non sappiamo neanche le caratteristiche che facilitano la vita della pianta diciamo così sono per la pianta un po' come i soldi del proverbio cioè non sono fondamentali ma l'aiutano a vivere meglio sono una sorta di indotto dove la pianta è la grande azienda e l'indotto dato dai microrganismi fa delle cose per conto della pianta la pianta gli dà un po' da mangiare e loro in cambio le permettono di assorbire più fosforo di assorbire più azoto di avere un terreno che trattiene molto più facilmente acqua un terreno che ha diciamo una fertilità molto maggiore la difendono da parassiti e da aggressori limitano i danni che possono dare sostanze presenti nel terreno ad esempio metalli pesanti nei confronti della pianta quindi la pianta è come se desse a dei terzisti tutto questo tipo di attività che in questa maniera lei non deve risolvere per conto suo per conto proprio e lo fa pagandoli lo fa dando loro delle forme di nutrimento questo non è solo un'osservazione diciamo che ci permette di dire che le piante sono degli organismi molto più cooperativi di quanto noi immaginassimo che ci permette di dire che in natura è vero che vale la concorrenza ma vale anche la cooperazione è vero che se nasci gazzella o nasci leone devi continuare a correre ma è anche vero che esistono dinamiche diciamo di relazione in cui gli organismi si interagiscono tra loro creando dei mutui vantaggi ma ci dice anche che noi alcune di queste caratteristiche potremmo provare a copiarle qualcuno da qualche anno ci sta provando questa è la descrizione della zona industriale di una città danese che si chiama Kalumborg che è stata progettata da zero e in questa zona industriale esiste una forma di simbiosi molto simile a quella che vi ho raccontato relativamente alle radici delle piante questo modo di approcciare le strutture industriali si chiama proprio simbiosi industriali prevede di progettare le zone industriali in maniera tale che ad esempio lo scarto di un'azienda sia automaticamente la materia prima dell'azienda che sta a fianco che l'energia in eccesso prodotta da una delle aziende possa essere utilizzata dall'azienda vicina come fonte di energia e non dispersa nell'ambiente in maniera tale da ridurre al massimo l'impatto ambientale e anche ottimizzare i costi perché ovviamente ormai lo smaltimento dei rifiuti è un costo e l'acquisto delle materie prime ovviamente ha in questa maniera un costo limitato ci dice anche questa cosa che abbiamo capito sulle piante che alcune pratiche agricole e alcune cose che noi facciamo in campo agricolo possono essere rese un pochino migliori ad esempio anche gli agronomi più diciamo tecnologicamente orientati più orientati all'innovazione al cambiamento scientifico ammettono che meno lavorazioni facciamo in campo e meglio è perché più il campo viene arato sarchiato e lavorato più noi andiamo a intervenire in maniera negativa sulle relazioni tra piante e microrganismi del suolo e quindi di fatto indeboliamo la pianta questo giardino questo modo di fare meno interventi di essere un po' più passivi nei confronti delle piante anche delle piante coltivate in brutte bestie l'ho descritto facendo un altro prestito letterario prendendo in presto Oblomov questo come dire signore un po' pigro un po' un po' indolente che trascorreva lunghi periodi sdraiato sul divano o sul letto è il giardino di chi preferisce che è quello che preferisco io tornando alla pregiudizio di prima è il giardino di chi o è la relazione con la natura di chi con le piante in questo caso specifico non ha più una relazione di possesso ma una relazione che guarda più verso una relazione con l'ambiente io ti lascio fare ti lascio seguire la tua vita di pianta e mi relaziono con te perché tu per me sei una porta verso l'altro sei una porta verso il mondo che mi circonda non sei un simbolo da mettere fuori dalla porta per dire chi sono io che invece abito abito dentro la casa questo come dire modo di osservare un po' più rilassato è un po' meno frenetico permette anche di fare diciamo così forse qualche momento di filosofia in più cioè tutte queste cose che abbiamo visto che stiamo scoprendo in termini tecnologici grazie alle tecnologie sulle caratteristiche delle piante ci stanno effettivamente permettendo di capirle meglio cioè usiamo queste tecnologie molto elaborate che ci permettono di accogliere un enorme numero di informazioni scopriamo che le piante sono plastiche hanno delle capacità che noi non sospettavamo diciamo così ci sta effettivamente permettendo di capire le piante e ogni tanto no nel senso che in questo caso iniziamo a scontrarci con la complessità di quello che scopriamo e i limiti del modo che noi abbiamo di raccontare il mondo che ci circonda perché è un modo che sta facendo venire fuori ha fatto venire fuori negli ultimi anni secondo me una posizione che costantemente ci mette al centro dell'attenzione perché perché quasi tutte le caratteristiche che noi abbiamo incontrato che in un certo modo io vi ho descritto in questi minuti evitando di usare certi termini cadono invariabilmente quando noi queste cose le vogliamo raccontare e inevitabilmente le facciamo paragonandone a noi utilizzando ad esempio i sensi io ho cercato di non dire che una pianta ha un udito che ha una vista che ha un tatto che ha un gusto ho cercato di non usare la parola intelligenza ho usato la parola plasticità un po' apposta perché un problema grosso che c'è nella narrazione di queste cose è che fatichiamo ad accettare che effettivamente le piante sono un altro da noi sono una cosa che è biologicamente completamente diversa da noi nel momento in cui noi la vogliamo raccontare cerchiamola di condurla a noi quindi la pianta ci interessa perché assomiglia a noi no la pianta ci deve interessare in quanto organismo vivente che si è adattato alla vita su questo pianeta sviluppando delle strategie che sono completamente diverse dalle nostre è un altro da sé un altro da noi anche proprio da un punto di vista culturale e facciamo dovremmo ove possibile evitare di raccontarla avendo diciamo una descrizione sempre molto antropocentrica che mette noi in cima a questa specie di scala naturale per cui le cose in natura hanno un senso soltanto se sono in qualche modo riferite o riferibili o riferibili a noi ovviamente questo non è facile perché si scontra con i nostri limiti anche proprio con i nostri limiti sensoriali di rielaborazione dei sensi e qui vi ho messo questa ruota degli aromi che apparentemente non c'entra quasi nulla con quello che vi ho raccontato se non che è determinata da sostanze chimiche che interagiscono con il nostro olfatto ma ve l'ho messa per un motivo ben preciso se noi dobbiamo descrivere che profumo ha un bicchiere di vino che stiamo annusando non abbiamo le parole non esistono aggettivi precisi per descrivere le sensazioni olfattive e siamo costantemente costretti a ricorrere alla nostra esperienza e a dire profuma di nelle ruote degli aromi non ci sono aggettivi ma ci sono cose c'è scritto peperone verde c'è scritto ananas c'è scritto pera c'è scritto noce di cocco perché il nostro potentissimo cervello e il nostro linguaggio soprattutto non hanno parole per descrivere una sensazione sensoriale legata all'olfatto e quindi siamo costretti a utilizzare quello che già conosciamo in un certo senso inevitabilmente quando dobbiamo raccontare un altro da noi un po' tendiamo a fare a usare noi come riferimento perché la nostra esperienza è la prima che conosciamo ma dovremmo ricordarci che questo è un limite e questo nel raccontare le piante e nel cercare di spiegare cosa abbiamo capito di loro è oggettivamente un limite sempre a posteriori mi sono accorto che in Erba Volant ho inserito un personaggio i libri non sono propriamente dei saggi in senso stretto mi piace inserire delle parti anche narrative ho inserito un personaggio e l'ho fatto prima di rendermi conto effettivamente perché l'avevo fatto ho inserito un personaggio che è in grado di in un certo senso parlare con le piante stabilire una comunicazione telepatica con le piante e quindi entrare in contatto è una sorta di traduttore in realtà è una persona che fa da interfaccia se vogliamo è un è un virgilio nella nostra relazione con l'altro da noi in questo caso con un altro da noi dato dalle piante perché effettivamente per riuscire a raccontare e spiegare le piante una delle cose che dobbiamo riuscire a costruire è un linguaggio è una traduzione io come guida per riuscire a raccontare queste cose mi sono andato a pescare un un modo uno stile che non è che non nasce diciamo dalle scienze è una cosa che mi è stata insegnata in un altro dei miei percorsi un po' formativi un po' diversi all'iceo classico quando mi hanno spiegato Manzoni me l'hanno spiegato riassumendolo con questa frase qui che era considerata è considerata una delle sue come dire basi della sua poetica l'utile per scopo il vero per oggetto l'interessante per mezzo è vero in ambito letterario ma secondo me è molto vero anche quando dobbiamo cercare di raccontare qualcosa che nasce dalla scienza e che ci lega in un qualche modo alla natura se questi tre punti formano un triangolo equilatero ci sono buona probabilità che il racconto sia bilanciato e che chi ci ascolta non solo recepisca il messaggio tecnicamente giusto ma anche come dire che se ne vada a casa con qualche informazione in più nella sua capacità di relazionarsi col mondo e con quello che ci circonda ed è quello che spero di aver fatto oggi con voi grazie mille grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.